Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Parliamo di cronaca partendo da Trapani dove un bimbo di due anni è finito in ospedale, ora si trova ricoverato a Palermo dopo aver ingerito della droga. La polizia sta indagando anche sui genitori. Un bambino di due anni di Trapani che si è sentito male dopo aver ingerito della droga è ricoverato in prognosi riservata in un ospedale di Palermo. Il piccolo era svenuto e i genitori lo avevano immediatamente trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate. I medici, che hanno compreso la causa della malattia, lo hanno stabilizzato ma per precauzione è stato deciso il trasferimento all'ospedale dei bambini di Palermo dove sono stati trattati diversi casi di piccoli arrivati in overdose da droga. Dopo le prime cure le condizioni di salute del bambino sono in miglioramento ma la prognosi, come detto, resta riservata. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Trapani coordinata dalla Procura per i minorenni di Palermo. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sentito i genitori ed eseguito delle perquisizioni nella loro abitazione. Beccato a spacciare due volte nel giro di pochi giorni a Palermo un 39enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 39enne palermitano già noto alle forze dell'ordine in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta in aggravamento della misura degli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, durante la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato arrestato dai militari perché durante un controllo era stato trovato fuori dalla propria abitazione e in particolare davanti a un magazzino al quale l'indagato avrebbe avuto libero accesso violando così gli obblighi della misura di prevenzione. In tale occasione i militari, a seguito di una perquisizione personale e locale, avevano rinvenuto un involucro contenente 20 grammi di cocaina e la somma di denaro di 115 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'illecita attività di spaccio. A distanza di 10 giorni, il 39enne è stato nuovamente arrestato dallo stesso reparto poiché durante l'ennesimo controllo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di spaccio, è stato sorpreso fuori dall'abitazione in compagnia di una persona che alla vista dei militari ha provato ad allontanarsi. Quest'ultimo, prontamente bloccato, è stato trovato in possesso di 10 dosi di crack e 2 di eroina cedute poco prima dal 39enne, il quale aveva la disponibilità di 285 euro ricavo della vendita dello stupefacente. La droga sequestrata è stata trasmessa al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e ha disposto a carico del 39enne la misura della custodia cautelare presso la locale casa circondariale. Ci spostiamo a Pachino, nel Siracusano, dove è stato sottoposto a fermo il presunto autore dell'omicidio del trentenne tunisino avvenuto nei giorni scorsi. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e della Compagnia di Noto hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa un diciannovenne di nazionalità tunisina sospettato di essere l'autore dell'efferato omicidio del trentenne connazionale avvenuto la notte tra il 6 e il 7 giugno al termine di una violenta rissa. Le indagini, sotto la costante direzione della Procura Retusea, hanno permesso di ricostruire la scena del crimine grazie all'impiego dei militari del nucleo investigativo specializzati nelle investigazioni scientifiche, i quali, unitamente ai carabinieri del nucleo operativo di Noto, hanno ispezionato l'intera area tra via Trieste e via Palestro alla ricerca di telecamere, tracce di sangue, armi e ogni altro elemento utile a far luce su quanto accaduto. Grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza installati lungo tutto il percorso dove sono avvenuti i fatti, i carabinieri hanno identificato alcuni uomini, tutti di nazionalità tunisina, sospettati di aver preso parte al violento scontro con uso di bottiglie di vetro, bastoni, sedie e anche secchi per la raccolta differenziata. Nonostante il muro di omertà, in poche ore i carabinieri hanno stretto il cerchio sul presunto autore dell'omicidio che si era allontanato subito dopo i fatti per far perdere le proprie tracce. Grazie anche al patrimonio informativo della stazione Carabinieri di Pachino, i militari operanti hanno concentrato le ricerche nell'area tra la comune Siracusano e Ispica. I militari hanno individuato l'uomo passeggiare per le vie del comune ragusano con gli stessi indumenti che indossava la notte dell'omicidio. Alla vista dei carabinieri, il tunisino ha tentato in vano di fuggire, ma è stato fermato poco dopo e trovato in possesso di 8 grammi di hashish. Espletati gli accertamenti necessari per la conferma dell'identità, notificato il decreto di fermo con l'accusa di omicidio aggravato, il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono al fine di identificare tutti coloro che hanno preso parte alla rissa o hanno assistito all'omicidio. A Catania i carabinieri hanno invece tratto in arresto un pusher minorenne. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa, nell'ambito di un articolato servizio di contrasto ai reati connessi agli stupefacenti, svoltosi anche con l'ausilio di un elicottero del dodicesimo nucleo elicotteri carabinieri di Catania Fontana Rossa, hanno concentrato la loro attenzione tra i vari siti su via Capopassero, arrestando in flagranza un minorenne catanese di 17 anni responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, stante la capillare copertura fornita da vedette di supporto agli spacciatori collegati via radio con ricetrasmittenti, i carabinieri hanno deciso di accedere in maniera discreta da due fronti all'area verosimilmente interessata dallo smercio di droga, cercando di intercettare le possibili via di fuga dei pusher. In effetti, la 17enne, appena notata la presenza dell'autovettura dei militari, è subito scappato, gettando a terra tutto ciò che aveva tra le mani. Entrato quindi all'interno di una delle palazzine, ne chiudeva il portone con dei ferri già predisposti per tale scopo, per poi uscire dal retro dell'edificio. Lo stratagemma tuttavia non ha funzionato, perché nonostante il fuggitivo fosse imbeccato via radio dal complice che gli indicava dove poter scappare, si è trovato di fronte un carabiniere già postato, riuscendo comunque a sfuggire alla cattura grazie al provvidenziale passaggio di uno scooter percondotto da un altro giovane, su cui è salito al volo. I due non hanno fatto però molta strada, venendo prontamente bloccati dagli operanti. Nella circostanza, l'equipaggio della Gazzella ha accertato che il conducente del motorino non conosceva cosa stava accadendo nella persona a cui aveva dato un passaggio, ha proceduto alla perquisizione della minorenne, rinvenendo 250 euro nelle sue tasche, ovviamente provento dell'attività di spaccio, sino a quel momento effettuata. Nel frattempo, un altro militare si è preoccupato di raccogliere quanto precedentemente buttato dalla diciassettenne, ossia una ricetrasmittente e due buste di cellofan, al cui interno erano presenti 86 dosi di cocaina e 53 di crack. Ispezionata poi la buca per la posta dell'edificio nel quale la minore si era inizialmente rifugiato, hanno trovato un'altra busta con ulteriori 42 dosi di crack. Nei confronti del giovane, nell'immediatezza condotto nel centro di prima accoglienza di via Franchetti a Catania, è stata disposta la convalida dell'arresto e il successivo collocamento nell'istituto penitenziario minorile di Bicocca. Maltrattamento in famiglia a Mazzara del Vallo, dove è scattato un provvedimento per un giovane, un diciottenne, che maltrattava la madre e la sorella. I carabinieri della stazione di Mazzara del Vallo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e contestuale di vieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese nei confronti di un giovane mazzarese. Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative documentate dai carabinieri pienamente condivise dall'autorità giudiziaria relative alle presunte condotte di maltrattamenti del diciottenne nei confronti della madre e della sorella minorenne. La madre, stanca di subire tali vessazioni, si era rivolta al comandante della stazione Carabinieri che aveva fatto partire l'indagine. La donna, per la propria incolumità, ha scelto di essere collocata presso una struttura protetta. Cambiamo argomento e parliamo di somministrazione di alcolici a minorenni. A Caltanissetta è scattata la denuncia per il titolare di un esercizio commerciale. Vediamo tutti i dettagli del nostro servizio. I poliziotti della divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caltanissetta nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell'assunzione di alcol da parte dei minori hanno proceduto al controllo di diversi esercizi commerciali. Nel corso della predetta attività è stato denunciato alla locale procura della Repubblica il titolare di un locale ubicato a Caltanissetta per il reato di somministrazione di alcolici a minorenni. I poliziotti, infatti, all'interno dell'esercizio commerciale hanno identificato un minore di 16 anni e una minore di 18 con una birra. La macchinetta che distribuiva alcolici, infatti, non era predisposta del rilevatore dei dati anagrafici mediante sistemi di lettura ottica dei documenti dell'utilizzatore. Ad Adrano, nel Catanese, una giovane ragazza è stata invece denunciata per truffa aggravata. Vediamo il servizio. La polizia di Adrano ha denunciato in stato di libertà una 19enne adranita per truffa aggravata ai danni di una ditta di distribuzione automatica di confezioni di bevande aperta H24. La giovane aveva, infatti, escogitato un abile sistema per procedere alla truffa. Introduceva una banconota da 10 euro nell'apposita feritoia del distributore e non appena l'apparecchio acquisiva la banconota e il visualizzatore dello stesso apparecchio e indicava il credito pari, ovviamente, a 10 euro, utilizzando un dispositivo elettronico a onde radio, cosiddetto disturbatore di frequenze, riusciva a fare raddoppiare il credito portandolo a 20 euro. Quindi procedeva a selezionare il prodotto desiderato e a ritirarlo. Inoltre, oltre al prodotto selezionato, ritirava anche il resto, ovviamente relativo all'importo fraudolentemente indotto, così realizzando l'ingiusto profitto. La ragazza, infatti, anziché percepire il resto di 10 euro, riceveva il resto dei 20 euro artificiosamente impostati. Tale procedura, ripetuta nel tempo, ha permesso all'indagata di realizzare degli elevati profitti con notevole danno per l'azienda, oggetto della truffa. La giovane è stata riconosciuta attraverso i sistemi di videosorveglianza installati presso l'azienda, dalla visione dei filmati registrati, dalle telecamere. Infatti, gli operatori della Polizia Scientifica, intervenuti sul posto, hanno accertato tutte le operazioni poste in essere dalla 19enne. Identificata, è stata quindi accompagnata presso gli uffici del commissariato ed è ferita all'autorità giudiziaria, dovendo ora rispondere del reato di truffa aggravata. Ed ora la Covid con i dati dell'ultimo bollettino settimanale che riguarda ovviamente la Sicilia. Nella settimana tra il 29 maggio e il 4 giugno in Sicilia sono stati 583 i casi di contagio da Covid in calo del 5,5% rispetto alla settimana precedente e con una incidenza media di 12 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti. I dati sono contenuti nel bollettino settimanale redatto dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute che in una nota sottolinea come nonostante una situazione epidemica ancora acuta in linea con il territorio nazionale le ospedalizzazioni in Sicilia risultino più contenute. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Palermo Messina e Trapani. Le fasce di età maggiormente a rischio risultano gli over 90 la fascia tra gli 80 e gli 89 anni e quella tra i 60 e i 69 anni. Le nuove ospedalizzazioni si legge nella nota sono in lieve diminuzione sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid. Più di metà dei pazienti in ospedale risulta non vaccinata. Per quanto riguarda le vaccinazioni i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 22,36% del target regionale mentre la 19,22% ha completato il ciclo primario. Nel target over 12 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,89% del target regionale quelli che hanno completato il ciclo primario sono l'89,51%. Sono 1.120.951 i cittadini siciliani che non hanno ancora effettuato la terza dose nello specifico i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.774.268 pari al 71,22% degli aventi diritto Dal 13 luglio del 2022 nell'isola sono state complessivamente somministrate 243.952 quarte dosi di cui 214.359 a soggetti over 60 le quinte dosi somministrate invece risultano complessivamente 10.661 E' tutto a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia e a più tardi